Io sono Marco Rossi, sono musicologo e diplomato in psicomotricità. In più sto indagando molto in questi anni l'integrazione tra la musica e il movimento, quindi varie forme di musicoterapia. Sono un socio fondatore della Fondazione Patrizio Paoletti e subito dopo che è nata la Fondazione, con altri psicologi, psicopedagogisti, altre figure, abbiamo ideato questa settimana che si chiama Junior Training, che è un evento formativo che si rivolge alla famiglia, il cui l'obiettivo è di aiutare i genitori a fare un punto nave in modo leggero e divertente sulla loro famiglia, sui loro stessi, sui loro figli, nell'idea che i figli sono un dono enorme e come ogni dono ha il suo aspetto di onore e di onere. E quindi fare il punto nave per riuscire a capire come sta andando e se stiamo onorando il dono nell'idea di riuscire a permettere ai nostri figli di sviluppare appieno i loro potenziali, di riuscire ad aiutarli ad aprire quello scrigno dei loro talenti e a farli emergere, crescere. E in tutto ciò noi stessi genitori crescere con loro e quindi riscoprire anche dei nostri talenti in questo dialogo, in questo reciproco interagire. Il proposito è che in una settimana, giocando, lavorando insieme, ogni famiglia possa fare il suo punto nave e già durante la settimana scoprire quei campi di miglioramento realizzabili, attuabili nel quotidiano. Questo è il proposito, l'abbiamo attuato da diversi anni, io nello specifico mi occupo del contributo che la musica dà a tutto questo. Musica nelle sue varie forme, musica come stimolo per muoversi, per ballare, per interagire in modo divertente, musica intesa come canto, come capacità di dare espressione attraverso la voce, alle proprie emozioni, al proprio coinvolgimento. Musica come suonare, come la possibilità, senza essere musicisti, di partire dalle nostre competenze naturali, di base, per giocare, a fare ritmi, con strumenti, accompagnarci e accompagnare musiche di vari repertori, dalla musica classica alla musica etnica, jazz, rock. Musica che ha la sua valenza sociale, per cui noi abbiamo visto che la musica permette un coinvolgimento e un'accoglienza immediata a tutte le persone con la loro diversità che arrivano al Junior Training. Diversità di età, da bambini piccolissimi a bambini più grandi, a ragazzi, genitori, diversità di origine culturale, etnica, perché il Junior Training ha una dimensione internazionale, hanno partecipato persone da Israele, dalla Bielorussia, dagli Stati Uniti, dal Sud America, da diverse parti d'Europa. E quindi la musica ha questo aspetto che veramente può permettere di comunicare, anche se la lingua è diversa. E poi per la sua valenza, diciamo, musicoterapeutica, ma in senso molto lato, cioè in senso educativo, preventivo e a volte anche come intervento, rispetto ad alcune caratteristiche che possono diventare una difficoltà, a volte, per le famiglie. Per esempio nella direzione dell'inibizione, della timidezza, della difficoltà ad aprirsi alla socializzazione. La musica riesce a creare quella condizione, dopo un po', che permette anche ai bambini più timidi di aprirsi, di entrare nella relazione. E agli adulti, che anche loro hanno queste caratteristiche a volte. Anche nel versante opposto, di situazioni dove l'iperattività, l'irrequetezza, l'instabilità, a volte possono diventare una difficoltà, la musica, noi abbiamo sperimentato, può aiutare a canalizzare, orientare gli impulsi motori e riuscire a organizzarli, a ordinarli. E quindi poi arrivare ad una forma di contenimento di questa energia che a volte è disorientante e in questo contenimento riuscire a valorizzare questa energia, farla diventare creatività, farla diventare ricchezza condivisa e condivisibile col mondo attorno, col gruppo in cui si lavora. Grazie.